nel video di oggi mi preparo con voi per san valentino per prima cosa vado a stendere il fondotinta di chanel questo qui è il vita lumière acqua in polvere e lo stendo col pennellino che ho ricevuto insieme al fondotinta lo stendo con movimenti circolari perché così la coprenza è maggiore poi vado a prendere il mio correttore doppio di bobby brown questo qui ha la parte cremosa che utilizzo per prima con il dito e la picchietto su tutta la zona delle occhiaie e una volta fatto questo vado a prendere la parte in polvere che è la cipria fissante e la stendo con un pennello largo sfumandola poi vado a dare un po di colore al viso utilizzando questa cipria barra terra di chanel che ormai mi avete visto utilizzare in tutti i tutorial ed è quella le beige che vi ho mostrato credo anche nel video dei preferiti del 2014 perché la uso tantissimo vado a questo punto a disegnare le sopracciglia e utilizzo la mia matita di chanel fidatissima poi con il pettinino che c'è sul retro della matita vado a pettinare le sopracciglia per dargli un aspetto un pochettino più naturale e le fisso utilizzando il solito gel per sopracciglia che ormai conoscete a memoria ma veramente non riesco a sostituirlo perché l'applicatore è perfetto per la mia forma poi vado a stendere il primer il mio solito primer di urban decay e lo stendo su tutta la palpebra mobile e poi mi allargo fino all'arcata sopraccigliare dalla naked basics 2 vado a prendere cover che è questo marrone opaco freddo e vado a stenderlo solo nella piega dell'occhio sfumando molto molto bene infatti mi servo da subito di un pennello da sfumatura poi vado a prendere la palettina cat eyes di two face che utilizzerò per tutto il tutorial e per prima cosa utilizzo questo beggiolino bianco e lo stendo su tutta la palpebra mobile proprio perché mi serve per andare a fare da base al colore che utilizzerò successivamente e dalla palettina prelevo poi questo bellissimo color bronzo dorato che fa dei riflessi veramente spettacolari che purtroppo con le luci del video non si vedono e lo stendo con un pennello piatto su tutta la palpebra mobile poi con lo stesso pennellino vado a prelevare questo marrone anche in questo caso molto glitterato e molto shimmer e vado a stenderlo nella parte esterna dell'occhio picchiettandolo con movimenti rapidi e in seguito lo sfumo con un pennello da sfumatura pulito con un altro pennello da sfumatura vado a prelevare questo colore che è un blu viola molto bello e lo stendo per intensificare ulteriormente la piega dell'occhio riprendo il color bronzo con un pennellino a penna questa volta e vado a stenderlo nella prima parte della rima esterna inferiore e sempre con lo stesso pennello prelevo il marrone un po' più scuro e lo stendo nella parte finale dell'occhio congiungendomi con la parte superiore per finire applico la matita nera la mia solita di Kiko in tutta la rima inferiore interna e nella parte superiore invece vado a utilizzare l'eyeliner questo qui è il mio solito eyeliner di Givenchy che adoro perché fa venire una riga veramente perfetta e molto molto nera come mascara utilizzo il better than sex di Too Faced perché è quasi come se utilizzassi le ciglia finte mi è quasi finito infatti voglio ricomprarlo al più presto per fare un po' di contouring utilizzo questa terra di mac che è la sculpt e la utilizzo con questo pennello che è anche un pennello per applicare il blush sempre con lo stesso pennello vado a stendere il blush questo qui è un blush di Givenchy con quattro colori da mixare che dà un effetto molto naturale e veramente molto bello e poi vado a disegnare il contorno delle labbra con questa matita di Kiko che faceva parte di un set natalizio e per finire applico il rossetto che è di mezzo tono più scuro della matita e fa un effetto bellissimo sulle labbra perché rimane leggermente opaco ma non troppo questo è il risultato finale del make up che è molto semplice però è un po più intenso del solito proprio in occasione della sera di San Valentino passiamo all'outfit ho utilizzato queste decoltè nere di Pittarello che adoro e ho scelto di indossare questo bellissimo vestito di Tally Welly e questo era tutto per il mio video get ready with me per San Valentino spero davvero che vi sia piaciuto e spero che possiate passare una bellissima serata con la persona a cui vi volete bene un bacione